Buongiorno a tutti e ben ritrovati, io sono Lodovico Dinkawa e siamo alla Masterclass di Microsoft Excel. Quest'oggi andremo a vedere come funzionano gli elenchi a discesa, quindi che cosa significa che noi prepareremo delle celle in modo tale che si possano inserire solo determinati valori. Allora per fare questo andiamo sempre nel file di benvenuto di Microsoft, quindi menu file, andiamo sul nuovo e scegliamo benvenuto in Excel. Adesso io l'ho già aperto e ci spostiamo nella scheda elenchi a discesa, come sempre qui Microsoft ci fa vedere un pochino come funziona la tecnologia, però è sempre un po' limitante. Noi adesso andremo ad approfondirla un po' meglio di quello che propone lui. Allora qui appunto ci fa vedere come si va a fare un elenco a discesa, possiamo fare ad esempio un elenco manuale. Cosa significa? Che ad esempio noi qui abbiamo la categoria alimentari dove ci sono praticamente i prodotti, mele, manzo, banane eccetera. E poi magari l'operatore di turno deve andare ad assegnare queste elementari a un reparto specifico. Solo che se io qua dico ad esempio ortofrutta, ok, avrei assegnato praticamente le mele all'ortofrutta, ma magari sbaglio a scrivere perché magari scrivo ortofrutta con una sola T. E vado a riportare praticamente dei valori sbagliati all'interno della mia base dati. Allora ecco che entrano in gioco le convalida dei dati e ci permettono appunto di inserire valori predeterminati che abbiamo scelto noi per l'utente che andrà a fare gli inserimenti. Come funziona questa cosa? Allora facciamo praticamente una convalida dati manuale in questo momento. Quindi qui c'è un set di dati, non è una tabellina perché vedete che non compare un menu contestuale qua su come vedevamo nella precedente lezione. Quindi per attivare la convalida dati in una sola cella attiviamo solo la cella corrente. Se vogliamo fare su un set di dati attiviamo tutte le celle, quindi selezioniamo tutte le celle sulle quali vogliamo andare ad attivare questa convalida dati. Dopodiché che cosa facciamo? Praticamente andiamo nel menu dati e premiamo il bottone convalida dati. Adesso qua voi come è vedete un po' stretto perché io ho lo zoom, però se andate sopra ai bottoncini praticamente ecco qua convalida dati e qua lo vedrete sicuramente più grande. Premendo sul trattino compaiono delle cose. Adesso noi approfondiremo solo il convalida dati in questa lezione. Quindi premendo su convalida dati compare questa finestrella che ci dice guarda impostazioni, messaggi di input e messaggi di errori. Allora iniziamo dall'impostazione. Qui in questo momento è impostato su qualsiasi valore, quindi posso andare a inserire qualsiasi cosa. Qui potrei dirgli guarda inserisci solo un intero perché con la convalida dati possiamo dire guarda puoi inserire solo numeri. Quindi noi gli diamo il valore minimo e il valore massimo ad esempio da 1 a 1000. Se io adesso premo ok e vado qui ok e provo a scrivere un testo mi dice guarda questo valore non corrisponde alle limitazioni convalida dati per definire l'aggetto. Quindi riprovo oppure annulla e quindi mi cancello il testo perché non posso andare ad inserire i numeri per la convalida dati che ho applicato a questo set di celle. Se torniamo dentro troviamo anche altre cose. Possiamo andare a definire praticamente la gestione dei numeri decimali piuttosto che possiamo andare a inserire esclusivamente solo delle date. Quindi noi qua potremmo dirgli guarda puoi inserire una data inizio a data fine. Quindi potrò inserire date solo all'interno di quell'intervallo e potrò inserire solo contenuti di tipo data. Piuttosto che posso mettere l'ora, piuttosto che posso mettere un limite alla lunghezza del testo che vado ad inserire, piuttosto che faccio una formula personalizzata perché devo fare qualcosa di particolare. Allora nel esempio di oggi noi andremo a fare degli esercizi con l'elenco che alla fine è quello che è più utilizzato. Quando noi mettiamo elenco noi potremmo dirgli origine. Allora noi qua potremmo dirgli ad esempio lui qui che cosa ci suggeriva. Ci suggeriva di mettere ortofrutta, carni e prodotti da forno. Quindi se andiamo qui ad esempio adesso noi facciamo con valida dati. Ho premuto il bottone sbagliato. Facciamo con valida dati e gli diciamo guarda fammi un elenco e qua ci metti ortofrutta. Poi noi mettiamo punto e virgola carni, punto e virgola prodotti da forno. Fatto questo praticamente noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente separato ogni contenuto che possiamo mettere nella cella del reparto da un punto e virgola. Quando noi mettiamo punto e virgola comparirà una nuova riga con il nuovo nome. Quindi noi qui facciamo praticamente ok. Se facciamo ok compare questa linguetta e se noi andiamo sulla linguetta possiamo andare a selezionare solo uno dei prodotti che noi abbiamo inserito nella convalida dati. Quindi se provo ad inserire qualcos'altro lui dà errore perché non è nell'elenco che abbiamo inserito. Io potrei anche scriverlo da solo carni. L'importante è che quando do l'ok al contenuto che ho inserito nella mia cella il contenuto sia effettivamente presente nella mia convalida dati. Se scrivo carni con due i ovviamente me lo rigetta. Attenzione che se guardate quello che vi dice benvenuto di Excel praticamente Microsoft qui ha messo la virgola perché probabilmente loro ragionano nel sistema internazionale americano dove cambia la punteggiatura. Tendenzialmente questa cosa si fa con la virgola se abbiamo il pc con le impostazioni internazionali americane. Per noi che siamo in Italia si utilizza il punto e virgola. Questo è un sistema solo che questo sistema magari può essere scomodo perché dobbiamo andare a inserire tutta una serie di voci che magari dobbiamo inserire 100 e dovremmo andare ad inserirle tutte qua a manine. Può essere scomodo anche la manutenzione può essere abbiamo tante e non capiamo più cosa abbiamo inserito cosa non abbiamo inserito. C'è un sistema un po' più semplice. Ad esempio andiamo qui ok qui c'è il nostro set di dati adesso magari facciamo ctrl t così trasformiamo questa tabellina nel nostro trasformiamo questo set di dati in una tabella ok così vediamo che funzionerà anche nella tabella. Adesso andiamo al menu contestuale togliamo anche il filtro ad imbuto se lo trovo adesso qui è nascosto vabbè facciamo così andiamo sul menu dati facciamo filtro e lo togliamo. Comunque questa è una tabellina giusto per far vedere che funziona lo stesso perché magari se noi abbiamo tante righe è sempre la solita cosa andare a selezionare tutte magari può essere scomodo. Se invece premo quando cambio il puntatore ok e qui vado faccio ancora un po' di zoom e clicco quando cambio praticamente il puntatore con la freccetta nera mi seleziono tutta la colonna in automatico senza doverla selezionare in automatico. Ad ogni modo qui anche andiamo sul convalida dati facciamo convalida dati compare la stessa cosa qui andiamo a dirgli elenco però al posto di andare a digitare tutti i contenuti a manina premiamo sulla freccettina che c'è qui sulla destra premendo qua possiamo andare a selezionare un intervallo di dati che magari può essere lungo quanto vogliamo. Quindi noi qui gli diamo l'intervallo dei dati dove ci saranno i valori che dovranno apparire nel nostro menu a discesa. Una volta che l'abbiamo selezionato ripremiamo la freccettina e premiamo ok. Ecco che vediamo che se io vado qui adesso a testo vedo che trovo appunto i valori che ci sono di qua. Se vengo qua e ci scrivo panetteria ok quando vengo qua e provo vedete che cambia il valore. Che cosa succede se cambio da carne a carni? Carni vedete che se adesso io ho cambiato carni però qui il valore che avevo già inserito lo trovo già però se entro in modifica non lo trovo più e quindi in quel caso dovrei andare a cambiarlo. Ovviamente questo è un menù un elenco di voci per un menù a tendine che tendenzialmente questo è sempre vuoto quando lo si rilascia all'utente però questo è il comportamento. Andiamo un po' più a fondo rispetto a quello che Microsoft ci fa vedere praticamente se noi andiamo su elenco a colonna quindi noi abbiamo definito questo set qua in modo che prenda un elenco che arriva da queste voci qua. Però quando io scrivo mi dà un messaggio un po' brutto no nel senso mi dice questo valore non corrisponde alle limitazioni convalida dei dati definite per cui la cella riprova a nulla. Allora quando io clicco l'utente dice boh ma che cosa devo fare io qua? Allora io potrei andare sul menu convalida dati e qui facciamo un ulteriore passaggio andiamo nel menu nel messaggio di input che vediamo qua. Così gli possiamo mostrare un messaggio noi facciamo comparire un titolo alla nostra casella di messaggio diciamo messaggio informativo ad esempio e poi mettiamo un messaggio di input e qua gli diciamo bisogna assegnare i reparti ai vari prodotti. Questo è un esempio ma qui ci potete scrivere quello che volete se adesso io premo ok vedete che quando io clicco adesso ho selezionato solo questa cella qua facciamolo su tutto il set quindi lo facciamo così e ritorniamo dentro sul convalida dati. Torniamo qua e facciamo un messaggio informativo comunque avete già capito inserire i reparti di tutte di tutti gli alimentari. Ok fatto questo che cosa succede che quando io faccio clic qua ok su qualsiasi cella dove vado a mettere il messaggio appunto compare il messaggio informativo così aiuta l'utente per capire che cosa appunto deve andare a fare. Poi nel mentre quando ho annullato l'operazione prima mi si è tolto questo si è tolto perché cosa è successo prima sono andato a mettere il messaggio informativo solo su questa cella qua. Poi quando ho selezionato di nuovo tutto il mio perimetro di celle ha visto che lo stavo facendo in modo diverso rispetto alla prima e quindi mi ha eliminato tutte le configurazioni e ho dovuto ripeterle. Comunque sì questo è un messaggio informativo che può aiutare l'utente. Posso anche andare a dare un messaggio di errore particolare nel senso che quando io digito qualcosa perché voglio digitare qualcosa di diverso posso scegliere anche che cosa fare una cosa alternativa rispetto a questo messaggio. Quindi riprendendo il nostro assai di dati torniamo sul convalida dati e qui possiamo andare sul messaggio d'errore e qua abbiamo tre tipi di messaggi quindi possiamo fare un'interruzione, un avviso e un'informazione. Vediamoli tutti e tre. L'interruzione gli dico ad esempio come titolo gli dico errore e gli dico hai inserito un valore non valido. Vediamo che cosa succede quando clicco qua ad esempio qui finché seleziono va tutto bene se metto un qualcos'altro mi esce un messaggio differente è personalizzato. Vedete il titolo errore ho messo mi dà la x ha inserito un valore non valido così per l'utente è più semplice capire che cosa ho sbagliato quindi potete andare a customizzarlo un attimino. Piuttosto che riprendiamo tutto vediamo gli altri due velocemente facciamo avviso e gli diciamo errore ok e compare questo messaggio qua lasciamo sempre sempre lo stesso testo così andiamo veloci. Io adesso digito qualcosa di diverso e lui però mi dà un messaggio diverso mi dà un avviso ha inserito un valore non valido e questo è il messaggio che ho inserito io però mi lascia scegliere vuoi continuare? Sì oppure no oppure nulla allora se faccio no praticamente lui torna in modifica della cella ok se faccio nulla mi toglie praticamente quello che ho scritto se faccio sì mi dà una forzatura e mi dà l'avviso di errore come vedevamo nella precedente lezione che ci dà i suggerimenti quindi lui qui sente che sotto non c'è un valore che sta nell'elenco però mi lascia forzarlo quindi potete dare questa cosa qua però c'è da premere appunto il bottone sì in modo che l'utente sia consapevole che sta inserendo qualcosa di differente piuttosto che andiamo a mettere quello di informazione quindi questo quando vado a scrivere premo invio e mi dice guarda ha inserito un valore non valido e qua mi fa fare ok e me lo lascia inserire ugualmente quindi mi dice appunto quando faccio faccio oppure ok oppure annulla ok non entro in modifica molto simile all'altro solo che capia praticamente l'iconcina bene questo è quanto sta dietro ai elenchi a discesa però fate molta attenzione perché facciamo un ulteriore prontamento e poi chiudiamo questa lezione quando io configuro un elenco a discesa ok in questa posizione qua che cosa succede che magari poi l'utente quando lavora ok si trova questa cosa qua nello stesso identico foglio dove io appunto ho da fare devo andare a fare l'inserimento conviene sempre prendere questa cosa qua e metterla su un nuovo foglio quindi faccio tasto destro nel foglio qua sotto e faccio un bel inserisci faccio un foglio di calcolo e faccio ok perfetto io ce l'ho qua adesso io mi prendo praticamente questa voce qua e me la sposto di qua così qua mi faccio tutto il mio bel elenco ok poi cosa faccio torno di qua mi prendo il mio bel elenco a convalida dati torno di qua e mi dico guarda me l'ha già sentito perché io ho fatto ctrl x ho preso questo ha fatto ctrl x che praticamente è taglia poi sono andato sul foglio 1 e ho fatto incolla facendo così excel è intelligente e ha capito che praticamente la mia nuova posizione è sul foglio 1 mi ha cambiato il convalida dati in automatico però qui abbiamo un vantaggio noi potremmo dirgli guarda adesso prendi questo foglio facciamo tasto destro sul foglio e facciamo nascondi così l'utente qui andrà a lavorare ovviamente se va a fare a vedere come funziona il convalida dati vede che punta il foglio 1 quindi l'utente che cosa potrebbe fare potrebbe fare tasto destro scopri e comunque ci arriva e potrebbe andare a modificare l'elenco discesa però noi potremmo andare a bloccare le celle ad esempio noi potremmo selezionare la colonna a facciamo tasto destro e facciamo formato celle quindi andiamo qua giù su formato celle si apre questa finestrella qua qui possiamo andare ad esempio nel menu protezione e gli diciamo guarda queste celle qua sono bloccate di default sono tutto bloccate ma potremmo dirgli anche nascosta quindi noi ci assicuriamo che le celle questa colonna qua abbia tutte le celle bloccate adesso cosa facciamo facciamo un bel clic destro sul foglio e gli diciamo proteggi il foglio quindi noi facciamo proprio clic su proteggi il foglio quando facciamo questa cosa qua ci esce questa finestrina e noi qua possiamo dirgli guarda cosa vuoi proteggere del tuo foglio le selezioni le celle bloccate quindi noi qua ad esempio potremmo dare lina password adesso non la metto per praticità premo ok se metto una password ci dice ovviamente di ripeterla quando io vengo qua vedete se faccio doppio clic non riesco più a modificare il contenuto delle celle quindi l'utente potrebbe anche arrivare qua a vedere la convalida ok però non riuscirebbe a modificarla se non facendo tasto destro rimuovi adesso non mi ha chiesto niente ma se vado a mettere una protezione ci metto il carattere a quella ripeto ok quando vado a fare rimuovi mi chiede la password se non so la password non la posso rimuovere c'è anche da dire una cosa che se un utente è un po sveglio usa un po google e questo tipo di password è facilmente tolibile sui fogli si riesce a togliere abbastanza semplicemente quindi noi potremo mettere se proprio vogliamo andare a proteggere forte il nostro foglio lo potremo proteggere come abbiamo visto prima così abbiamo un primo livello di protezione poi potremo andare nel menu sviluppo se non ce l'avete si fa file andiamo giù su opzioni poi andiamo su barra multifunzione e attiviamo qui la voce sviluppo quindi clicchiamo qui ok così compare il menu sviluppo entriamo nel visual basic col bottonino in alto a sinistra e qui praticamente che cosa succede noi vediamo tutti i fogli che ci sono nel nostro file ci troviamo il foglio che ci interessa che ad esempio nel nostro caso appunto era foglio 1 eccolo qua andiamo giù nella proprietà che c'è qua giù ok visibile e al posto di mettere questo ci mettiamo sheet very hidden praticamente questo è che il foglio lo vedono tutti sheet hidden è quando noi nascondiamo come abbiamo visto nella procedura di prima il foglio se facciamo sheet very hidden ok cosa succede? significa che andiamo a proteggerlo a livello di visual basic e quindi se io vado qua e faccio tasto destro vedete che non compare più scopri però il foglio 1 non c'è quindi l'utente non si rende lui vede che praticamente qua sul convalida dati c'è il foglio 1 ok però non lo riesce a trovare in nessun modo per poterlo trovare bisognerebbe aprire il visual basic e cercarlo praticamente appunto all'interno di questo elenco qua selezionarlo e andare a mettere visibile allora voi potresti dirmi vabbè basta aprire il visual basic selezionare il foglio dato che l'ho trovato e mettere visibile così ritorno di nuovo ad avere appunto il mio foglio visibile però possiamo fare un passaggio in più adesso entra un attimino un po' più sul difficile ma è molto semplice facciamo tipo un tasto destro in un punto qualsiasi del nostro della nostro ambiente che troviamo qua facciamo inserisci e facciamo un modulo ok qui in questo modulo ci scriviamo ad esempio sub e ci facciamo un test giusto per inserire una funzione questa cosetta qua scritta così poi andiamo su strumenti facciamo proprietà di visual basic andiamo su protezione proteggiamo la visualizzazione qua mettiamo una passola adesso ci metto una A facendo così ok io riesco a proteggere anche tutto quello che sta dentro il mio modulo visual basic quindi faccio un bel salvataggio di questo file lo chiudo adesso vado e lo riapro a prenderlo che cosa succede arrivo il mio file poi quando vado su sviluppo cercando di vedere dov'è il foglio nascosto ok io arrivo qua adesso questo è il file di benvenuta che avevo prima faccio doppio clic vedete mi chiede la password io non riesco a vedere i fogli come prima se metto la password se so la password riesco quindi ad entrare e trovare appunto il mio foglio e andare a sproteggerlo ovviamente attenti a non dimenticarvi la password perché andare a togliere la password del visual basic comincia ad essere un lavoro piuttosto difficile bisogna sicuramente andare a prendere un tool esterno che fa delle cose particolari comunque così arrivate ad avere un livello di protezione sul foglio di convalida dati che è piuttosto alto bene direi che anche con questa lezione abbiamo terminato e se il video vi è piaciuto lasciate un like se vi fa piacere condividete la risorsa nei social commentandola con qualcosa di positivo così mi aiuterete a far crescere il canale se non siete iscritti magari iscrivetevi anche il canale vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao